Una battuta sul manifesto che hai appena visto, il mondo che vogliamo. C'è una cosa di Gino che mi è rimasta così impressa, quando lui diceva che come per la schiavitù, ormai non è più ammessa, esistono forme di schiavitù, noi lo sappiamo, però spero che questo manifesto contribuisca a un mondo dove non ci sono più guerre, non ci sono disuguaglianze, dove i beni diventino comuni, dove ci sia maggior giustizia, perché poi negli ultimi anni, la distanza tra coloro che hanno molti soldi e quelli che hanno poca, si sta sempre di più allargando. Quindi direi che questo manifesto che parte, spero che possa aiutare, spero in qualche maniera, anche se i tempi sono bui, non parliamo della cultura, ma in generale diciamo che i tempi sono bui.